Cleto Corposanto, scrittore, sociologo e viaggiatore, presenta In viaggio, una vita da flaneur. Episodio 12 Il Messico Il volo che da New York va a Merida, come quasi tutti quelli diretti a sud, fuori dai confini nazionali statunitensi, parte dall'aeroporto Fiorello La Guardia. Potrebbe rappresentare un indice di serenità, questo nome italiano di uno degli scali della metropole americana. In realtà il decollo mette già alla prova i cuori deboli. Avviene infatti su una pista con una curva, per cui il grande Boeing 747 aumenta la sua velocità in fase di rullaggio, pare vada dritto verso lo specchio d'acqua antistante, ma all'ultimo istante vira a sinistra, continua alla sua corsa ancora per un po', e poi, finalmente, si alza in volo sopra l'oceano. Tiriamo tutti un sospiro di sollievo, ci aspetta un volo di circa 4 ore, prima di atterrare a Merida, capitale dello Yucatan, e da lì raggiungeremo Cancun, nello stato dal nome bellissimo, Quintana Rojo. Siamo diretti al Convenio Mondiale di Sociologie, il decimo, che si svolgerà a città del Messico, a Mexico DF, Distrito Federal, come si chiamava fino al 2006, prima di assumere la denominazione attuale di Ciudad de Mexico. Maltappa di avvicinamento al Convenio e alla megalopoli messicana, che all'inizio degli anni Ottanta è una delle città più popolose al mondo, con i suoi circa 18 milioni di abitanti nell'intera area metropolitana e che oggi ha superato abbondantemente i 20 milioni. Ecco, questo viaggio prevede prima una tappa in un'isola dal nome accattivante. Andiamo a Isla Mueres, appunto, nel Quintana Rojo, di fronte a Cancun, in pieno Mar dei Caraibi. Abbiamo appuntamento lì con un altro amico e un collega, Giampaolo, che ha saltato la sosta new yorkese per godersi qualche giorno di più al mare. Atterrati a Cancun, il traghetto ci porta nella piccola isola caraibica e rapido e ci lascia in un posto dalla bellezza mozzafiatto. Spiagge bianchissime con le palme, un mare meraviglioso, un caldo pazzesco. Prendiamo possesso delle camere solo nel pomeriggio, dopo una lunga attesa, durata l'intera mattina, che serve a fare praticamente il giro di tutta l'isola. È un posto meraviglioso, ci fermiamo solo qualche giorno e ne approfittiamo anche per fare un giro in barca verso un'altra isola disabitata ma frequentatissima da moltissimi uccelli tropicali, che ne hanno fatto dimora principale. Trascorriamo un'intera giornata esplorando Contoi, questo isolotto in mezzo al mare, cucinando alla griglia dell'ottimo Barracuda che abbiamo pescato durante la traversata. Ma non siamo amanti delle lunghe soste, Isla Mujer se bella, ma dopo 3-4 giorni diventa strada stretta. Torniamo sulla terraferma con un altro obiettivo, un lungo giro nelle terre dei Maya, la riscoperta degli antichi insediamenti nello Yucatan. Gli spostamenti non sono agevoli, le antiche città Maya sono disseminate su un territorio molto esteso e spesso fuori dalle strade che collegano i centri abitati. L'unica possibilità, se vogliamo visitare lo Yucatan da viaggiatori e non da turisti, è quella di noleggiare un taxi, taxista incluso, per alcuni giorni. Ci farà da guida, interprete, accompagnatore, apriamo qualche trattativa in loco e dopo qualche ora abbiamo la nostra vecchia Mercedes nera, con un tettuccio bianco che ne deve aver fatti di chilometri. Alla guida c'è Carlos, perfetto, carichiamo i bagagli, si fa il pieno, si parte, i giorni nello Yucatan sono bellissimi, i siti di Ciceniza, Oxmal, Tulum sono assolutamente fantastici e Carlos si rivela una guida preziosa, soprattutto nelle soste, per mangiare e dormire. evitiamo così bidoni colossali e riusciamo invece a fermarci in locande assolutamente fuori dai circuiti turistici. Ci riporta a Merida per tempo, abbiamo un nuovo volo davanti, questa volta si va nella capitale. L'impatto con la grande, enorme città del Messico non è facile, in poche ore di volo passiamo dal Mar dei Caraibi alla megalopoli a 2250 metri di altezza. Ci vuole qualche ora per abituarsi del tutto. Sarà forse all'altezza, sarà la stanchezza, ma il primo immancabile giro a piedi appena depositati i bagagli in albergo sul chilometrico Paseo della Reforma è condito da qualche leggerissima vertigine. Due a poco, ma la sensazione c'è. Passa dopo una bella cena e una notte di riposo sul rumorosissimo Paseo. Alloggiamo in una zona veramente centrale della città. Dalle finestre si scorge El Angel, al centro della grande piazza attraversata dal lunghissimo viale. A piedi si raggiunge il meraviglioso Barrio Rosa, il quartiere che prende il nome dalle bellissime ville colorate che un evento sismico ha purtroppo poi modificato per sempre. Già in quegli anni il quartiere Rosa era uno dei più amati di Città del Messico e offriva a tutti la calda accoglienza messicana. Ancora oggi il Barrio resta un posto tranquillo nel contesto di una megalopoli di un'intera nazione che nel corso degli ultimi vent'anni ha visto aumentare molto l'indice di pericolosità dovuto al controllo di vaste zone da parte dei narcotrafficanti. Il congresso è molto interessante così come la mia prima esperienza accademica internazionale in un contesto di grande curiosità scientifica. Mi appassiona una sessione di discussione sui social indicators, una passione che poi ho mantenuto nel corso degli anni in diversi campi di ricerca. Sono gli anni quantitativi del mio percorso metodologico, sono gli anni durante i quali il pensiero scientista era molto invasivo nel tentativo di accreditare scientificamente una disciplina che scientifica era ed è di sicuro. Quello che non era corretto era proprio il metodo di accreditamento scelto. Il lungo soggiorno nella regione centrale del Messico ci permette dopo il convegno di vivere l'esperienza della visita a un senote, un termine che deriva dall'antica lingua maia e che serve a designare una grotta di origine carsica con la presenza di acqua dolce, una sorta di laghetto interno insomma. Bene sono moltissimi sparsi in giro e quello che vediamo è veramente bello. Si accede a una larga grotta provvista di una piattaforma di osservazione ampia nei pressi del punto di accesso. L'interno con la luce che filtra anche dall'alto fra la vegetazione ha una luce pazzesca e l'acqua una ventina di metri in basso è cristallina e di una trasparenza indescribile. Il resto dello spettacolo lo offrono alcuni ragazzi del posto che con grande naturalezza si tuffano dall'alto con una semplicità che denota grande familiarità con un gesto che a noi invece può apparire pericoloso. Un tuffo dove l'acqua è più blu e poi la veloce risalita arrampicandosi lungo le pareti rocciose del senote. Facciamo un giro anche nella seconda zona archeologica importante del Messico oltre a quella maya nello Yucatán. Non molto distanti dalla capitale ci sono infatti i resti dell'antica Teotican, città precolombiana fra le più importanti. Era molto attiva fra il 100 ed il 250 d.C. Una città già allora probabilmente multietnica che influenzò in modo determinante l'altra grande cultura mesoamericana, quella degli Aztechi. Le splendide rovine delle piramidi del sole e della luna, molto diverse architettonicamente da quelle maya dello Yucatán, ricordano piuttosto quelle più classiche, le piramidi egizie. Restano lì ancora oggi a testimonianza di un enorme fiorire culturale in quella regione. Ultime cose da vedere prima di lasciare il Messico. Un salto a Quernavaja, città di circa 300.000 abitanti e capitale dello stato del Morelos. L'occasione di vedere moltissimi murales di Diego Rivera, che alla Nagrafe si chiamava Diego Maria della Concepción Juan de Pomuceno e Stanislao della Rivera i Barrientos a Costa y Rodríguez. Eccolo, era lui, disseminati nelle vie di questa bellissima città. E poi l'ultimo saluto la capitale. Prima con un giro in barca nei bellissimi giardini galleggianti di Cochimilco, eredità del sistema agricolo e orticolo della gente Nahual, un posto pieno di gente, colori, fiori e cibarie, come solo in Thailandia o in qualche altro mercato galleggiante del sud-est asiatico. Una sera, nell'immenso Zocalo, come viene chiamata Piazza della Costituzione, una fra le più grandi del mondo, con circa 4,7 chilometri quadrati di estensione. Ci si perde, letteralmente, fra la gente che cammina, mangia, beve, chiacchiera, fuma. Il tutto è condito dalle musiche tradizionali dei mariaci, innumerevoli, festosi, a dare colore e parole al saluto a città del Messico. Professor Corposanto, mi scusi la domanda, ma lei non si è stancato di viaggiare? Ma zero proprio, zero. Questo è un podcast indipendente, prodotto in collaborazione con una ristrettissima cerchia di amici.